no, 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 hai acceso quella del bagno eh no, devi spegnerla spegnila hai spento quella del corridoio riaccendila brava l'hai spenta prima, poi l'hai accesa no, lasciala accesa lasciala accesa vieni un po' qua, vieni un po' qua Matti guarda un po', che animaletti ci sono lì? cosa c'è? cos'è questa? la papera, come fa la papera? la papera e questo? miau miau, è il gatto questo? è il cane, è bau questa? è la mucca, come fa la mucca? e questo è il maialino come fa il maialino? come fa il maialino? e poi c'è l'uccellino per ultimo l'uccellino come fa? cip 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 saluta nonna da papà nonna, non papà mamma nonna 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 faccia la nonna da nonna nonna e ciao e ciao e ciao fai la pernacchia anche? come fa la pernacchia? matilde? mau no 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 letta buce muau no 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 no